Non ho ancora approvato il bilancio per il 2023, proprio per una serie di incertezze e anche di ritardi nella costruzione del bilancio. Un gioco di equilibrismi, quello a cui sono costretti i sindaci, tra aumenti dovuti al caro bollette per il comune di Silea quantificati in 230 mila euro e risorse sempre più risicate. Al momento il sindaco Cendron non ha intenzione di mettere mano alle tasse, non è previsto nella bozza di bilancio. Spiega la prima cittadina che aggiunge come per preservare il sociale si debbano ad esempio contenere le spese per le manutenzioni del verde e delle strade, scelte sofferte come difficile e non riuscire a dare le risposte sperate. Non riusciamo ad aiutare in maniera come vorremmo quelle associazioni oppure siamo costretti a magari ritoccare quelle tariffe delle sale pubbliche che non riusciamo magari più a garantire con delle gratuità. Per il sindaco si è resa necessaria anche una revisione del piano triennale delle opere pubbliche alla luce degli aumenti tra il 20 e il 25% facendo slittare alcuni cantieri in programma. Un esempio arriva dall'intervento previsto per il municipio che necessita di un efficientamento energetico. Ci troviamo di fronte a un aumento delle spese fissate da progetto di circa 120 mila euro e quindi dobbiamo necessariamente, abbiamo dovuto spostare altre opere di efficientamento per poter portare a termine il municipio. Ma c'è un altro nodo che preoccupano un po' i sindaci ed è quello del personale perché nonostante le assunzioni fossero in programma non troviamo nessuno disposto a fare le selezioni, dice Rossella Cendrona che racconta del concorso indetto due settimane fa nel suo comune per due figure di area finanziaria. Su appunto 26 candidati nel concorso da C e 14 in quello da D arrivano all'orale solamente tre persone nel concorso da C. Ho una figura, la figura da D che non ha visto nessuno passare la fase degli iscritti.